Sono ore di trepidante attesa per gli ex residenti degli alloggi popolari di largo dei martiri di via Fania Ribera. Dovrebbe avvenire oggi la consegna del progetto definitivo da parte dell'impresa incaricata di predisporre il progetto esecutivo dopo la rinuncia nei mesi scorsi della ditta precedentemente chiamata a formalizzare tale adempimento. Tutto ciò ha fatto perdere altro tempo. Poi a fine gennaio l'annuncio da parte del sindaco Carmelo Pace che la consegna del progetto esecutivo sarebbe avvenuta il 15 febbraio. Allo stato attuale non abbiamo ancora alcuna notizia di presentazione del progetto. Speriamo sia davvero la volta buona dichiara oggi al nostro telegiornale Maria Sarullo a nome di tutti gli ex residenti. Lo stiamo vivendo in ansia perché fino a ora in questo momento non abbiamo nessuna risposta. Speriamo in giornata di averlo e almeno ci tranquillizziamo un pochino. Dopo sette anni spero che sia la volta buona perché sette anni sono passati con rammari, con delusione e con tutto. Ho visto che i tempi sono passati tanti anni e poi siamo quasi in primavera che la ditta diceva che voleva iniziare in primavera. Speriamo che sia la volta buona e entro stasera avere delle notizie che è stato approvato il progetto, è stato presentato e quindi che ci diano una buona speranza. Perché guarda se finisce anche questa volta non so più cosa fare, non sappiamo più cosa fare. Una vicenda assurda che si trascina da sette lunghissimi anni, da quando cioè nel febbraio del 2012 le famiglie furono costrette a lasciare le loro abitazioni. Ma adesso questi alloggi non ancora demoliti e dove spesso vivono numerosi extracomunitari costituiscono un grave problema anche per la sicurezza dei cittadini. Il pericolo c'è perché oltre sono abitati da migliaia di extracomunitari è anche il pericolo per tutta la città, per la nostra sicurezza e perché ancora le case stanno lì, capito? Quindi non ci rendiamo conto più il perché ci hanno fatto uscire, sette anni che sono all'impiede. Ma nel frattempo è iniziato il degrado e la mal sicurezza anche di tutto il paese perché sono abitati da migliaia e migliaia di extracomunitari.